La scena ormai è sempre la stessa da un mese a questa parte. Sacchi non ritirati da parte degli operatori ecologici perché non conformi. Purtroppo sono ancora numerosi gli errori riscontrati nella raccolta differenziata di carta cartone e sacco viola multileggero. Il Comune ancora una volta torna a chiedere maggiore attenzione nel differenziare rifiuti e più collaborazione da parte dei cittadini e lavoratori delle utenze non domestiche per evitare che i sacchi restino esposti fuori orario, creando disagio ai cittadini stessi e dando un'immagine poco piacevole della città. Intanto ecco gli errori più comuni riscontrati durante l'ultima raccolta. Il cartone della pizza va nel bidone giallo pulito dai residui, il vetro nel bidone blu. La carta spezzettata, la scatola della pasta e il cartoncino che avvolge gli yogurt devono essere messi nel giallo e non nel viola. Le invito a proprietari dei sacchi non ritirati e a riportarli nelle proprie abitazioni o attività commerciali e ad esporli in modo corretto nel successivo giorno dedicato. Dalla prossima settimana poi il giorno di raccolta del bidone giallo cambierà in tutti i quartieri della città con un giorno diverso rispetto al sacco viola.